La bella Loretta si dichiara per Amedeo Barbato, il bel tronista partenopeo. Nonostante il rifiuto, Gianmarco decide poi di raggiungere Loretta nei camerini per farle cambiare idea sulla sua decisione di frequentare solo Amedeo. La ragazza ribadisce ancora una volta le sue convinzioni e confessa tutte le cose negative che l'hanno allontanata da lui. In studio Amedeo dice di apprezzare il suo comportamento ma di essere titubante in quanto ha scorto nei suoi occhi una lacrima. Loretta confessa che, dopo l'ultimo incontro con Gianmarco, non ha fatto che pensare a lui. Si passa così all'esterno con la New Entry Cecilia, per una passeggiata in lago e una prima chiacchierata di conoscenza.